Ciao ragazzi, come di consueto vi faccio vedere un piccolo intervento di manutenzione, questa volta sulla smerigliatrice DeWalt, questa è la piccolina da 125 mm. Ora, l'altro giorno abbiamo visto come in un utensile Parkside praticamente si trattava di una fresatrice, non c'era alcun filtro che andava a bloccare eventuali truccioli che potevano entrare nel condotto di aspirazione e di raffreddamento del motore della fresatrice e che poi fuoriuscivano. E a non esserci chiaramente nessun filtro il motore dura meno e si va deteriorando proprio per usura ma anche per il fatto che in quel caso parlavamo di legno che è un materiale che chiaramente è anche infiammabile e una volta che insomma per via del calore, per via dell'attrito che ci può essere dentro al motore lascia dei residui che sicuramente bene non fanno e che riducono terribilmente L'aspettativa di vita di questi apparati. Ora, quando si parla di macchine un pochino più evolute, sì è vero che costano di più però hanno delle accortezze che evidentemente gli altri nemmeno ci pensano, nemmeno gli interessa porre in essere. Beh, in questo caso i filtri, vi facciamo vedere, ci sono. Qua ce n'è uno e qua ce n'è un altro e da qui per l'appunto entra l'aria. Sono sporchissimi, vedete? Li metto meglio a fuoco. Il filtro è sporchissimo, tanto questo come l'altro. A questo punto io colgo l'occasione per iniziare lo smontaggio di entrambi. Ora me li pulisco e poi in base a quello che troverò di sotto, perché ovviamente qualcosa sempre passa, un filtro troppo chiuso, chiaramente limita tantissimo il passaggio dell'aria. In questo caso qualcosa deve passare, perché se no insomma il motore non ha modo di raffreddarsi. Vedete? Così è nella parte retrostante, c'è questa retina metallica a maglie molto sottili e comunque, voglio dire, un po' così sporco passa sempre. Ora, vediamo un poco cosa riesco a fare nel momento in cui do una soffiata col compressore, perché volendo potrei anche smontare l'intero utensile e pulirmelo per bene. Questo sicuramente non gli fa male, ovviamente adoperando le dovute cortezze nello smontaggio delle viti, ma soprattutto poi quando si vanno a rimettere le viti, perché il problema, il pericolo, è quello di andare a rovinare le filettature di plastica, degli alloggiamenti delle viti. Ora, per evitare di rovinarle, più volte vi ho fatto vedere che io ho l'abitudine di porre la vite nel foro e anziché iniziare immediatamente a girare in senso orario, giro in senso anti-orario, finché non sento un saltino, che è lo scatto della filettatura della vite, che mi indica che proprio in quel momento la filettatura della vite stessa, rispetto a quella che è la filettatura del punto di ingresso, dell'ingresso di dove va alloggiata, praticamente si trovano in corrispondenza, quindi appena sento il saltino della vite, posso poi girare in senso orario e andare in avvitamento. Questo senza forzare, senza il pericolo soprattutto che la plastica si deformi. Ora vado nuovamente a svitare, voilà, è esatto, l'altro filtro è parimente sporco, così come è parimente sporco l'ingresso sottostante al filtro. Quindi passata di compressore, vediamo quello che esce, poi casomai di qua è più sporco. Probabilmente, infatti, perché io uso la macchina sempre con questa impostazione, quindi fondamentalmente il truscio, il detrito sta da questa parte, infatti qui c'è più sporco, lo vedete, proprio occhio nudo si vede rispetto a quest'altro lato dove chiaramente mi pongo io come operatore. D'accordo, con questo è tutto, io come sempre vi ringrazio per la visione, vi lascio anche in descrizione i link di quelli che sono praticamente i miei attrezzi preferiti per fare questi piccoli smontaggi manuali che sono il set della Wolfcraft, del quale praticamente sempre uso il manico che è perfetto sia nella dimensione che nella fattezza antiscivolo e poi il set della Milwaukee, dal quale praticamente uso i bit, sono bit per avvitatori a impatto fondamentalmente e capirete che non c'è il pericolo che questi bit si vadano a rovinare con viti che si maneggiano manualmente. Diverso il discorso purtroppo per, guardate qua, questi bit che arrivano da un famoso set da discount che fanno veramente pietà, anzi questo qua proprio è meglio che lo faccia sparire che lo butti, perché puntualmente se trovo una vite che è più dura di lui si va a rovinare lui, insomma si crea un patatrack indicibile e molto spesso si rovina sia il bit che la vite. D'accordo? Con questo è tutto, io come sempre vi ringrazio e vi rimando al video che verrà. Ciao!